La forbice tra i 6.000 permessi che vengono rilasciati dal comune per entrare nella ZTL e i 400-500 posti che ci sono per queste persone fa capire che non sono 50 posti in più o in meno. Un parcheggio per ogni 10 permessi ZTL. È il Comitato Parcheggi Centro Storico a denunciare questo squilibrato rapporto tra coloro che risiedono o lavorano nel centro cittadino e gli effettivi posteggi auto presenti nella zona. Un disagio espresso più volte dal Comitato che si sarebbe addirittura aggravato durante il periodo delle festività natalizie. Tante iniziative, tante persone nei negozi, è sempre più difficile trovare parcheggio. Di fronte a questo disagio che aumenta, il comune a parole dice di voler venire incontro anche alle nostre esigenze. Nella realtà sembra molto più attento alle esigenze di commercianti e di altre categorie, non ai residenti e a tutti quelli che vengono a lavorare nel centro storico. Abbiamo sollecitato noi un incontro. A questo incontro l'amministrazione comunale si è presentata dicendo di voler ascoltare e non di avere delle proposte. Dopodiché siamo stati sollecitati ad attendere un prossimo incontro che verrà fatto dopo che il comune avrà deciso tutto il piano di mobilità e quindi presumiamoci possa venire presentato un pacchetto già precostituito, magari concordato con altre tipologie di esigenze, ma non con quelle dei residenti. Noi chiediamo al comune di rovesciare le priorità. Prima i cittadini e le loro esigenze, poi i parcheggi a pagamento.